Abbiamo portato avanti questa iniziativa per consentire ai nostri collaboratori di avere un momento di confronto con rappresentanti sul territorio sia del mondo dell'impresa che della comunicazione, quindi fare impresa, creare valore, cosa significa, quali sono le componenti che si mettono in gioco, come vedono poste italiane sul territorio, quindi per noi questa è stata un'occasione veramente significativa di confronto e di approfondimento. Il tema era dedicato all'impresa e quindi perfettamente integrato nel Festival dell'Impresa che è una bellissima iniziativa che porta avanti i Confindustria di Ravenna.